Sono Gianluca Del Caldo, ho 21 anni e io sto portando avanti un'esperienza regolativa presso lo Stimicordionone, che è un ristorante specializzato in carni internazionali. E' piccolino, con mia mamma, mi è sempre, diciamo, fascinato il mondo della cucina. Lei piacerebbe sempre cucinare e quando magari la domenica preparava qualcosa o si metteva in più in me, era sempre di parte lei per cercare di rubare anche qualcosina con gli occhi e mi ha sempre, diciamo, affascinato. Ho cominciato comunque dopo che mi sono maturato a scuola nel 2018 facendo la stagione a Carle tra soli, studenta Hemingway e da lì ho iniziato ovviamente a prendere questa carriera. Magari alla nostra età uscire il sabato sera o avere la domenica libera sarebbe una cosa bella, diciamo. Però, le soddisfazioni che mi rende a questo lavoro, sinceramente, preferisco lavorare. riuscire il sabato sera o riuscire ad acqua o qualche modo si fa. Mi ha aiutato il fatto di avere un professore in quinta che mi ha portato con sé a fare la stagione e abbiamo fatto la stagione insieme appunto tre mesi, dopo ci siamo divisi in attimo perché ho avuto un'altra esperienza in un altro ristorante, però adesso ci siamo ritrovati e sto lavorando tutto da con voi. Allora, il sogno che vorrei realizzare è di aprire un ristorante mio. e mi piacerebbe un sacco proprio in California e ho, diciamo, qualche contatto, però, sì, adesso è un po' troppo questo, devo prendere ancora un po' di esperienza e poi magari si dovrà. Seguite sempre le vostre passioni, anche se magari i genitori e gli amici mi dicono di no che non è la strada giusta, se a voi piace fare una cosa, fate la vista. Grazie. Grazie a tutti.